Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video. Oggi si parla un attimino di Tactical Masters e dei primi leak di Battle of Chaos, delle prime rarità, perché comunque il set l'avevamo già visto tutto, tutte le 80 carte del set OCG, e aspetteremo soltanto le altre 20 carte del TCG. Rifaremo un attimo un recap veloce delle carte, vedremo le rarità confermate per il nostro TCG, e così via. Prima di iniziare, come sempre, invito a iscrivervi al nostro canale, e ringraziarvi tutti perché l'obiettivo dei 1350 iscritti è arrivato. Grazie mille a tutti, quando si chiedono delle cose, delle volte, molto spesso, a me ha aiutato tantissimo a raggiungere un tot obiettivi. Allora, Tactical Masters, questa è la bustina data ufficiale per il TCG, 8 giugno 2022, ci saranno 60 carte, ovviamente, 45 è il set OCG, con i tre archetipi nuovi, più ovviamente delle ristampe, così come noi. Forse ci sarà qualche import, andiamo a vedere un attimino la confezione così. Allora, devo essere sincero, la busta mi fa veramente schifo, perché riprende le artwork delle carte, però comunque non lo so, è troppo... non mi piace tantissimo. Delle volte non c'è impegno in alcune determinate cose, tipo Speed Duel che hanno sempre le stesse artwork. Però molto figo e si aspetta, io aspetto tantissimo i demori delle rune, vedremo cosa ci daranno. Andiamo a vedere Battle of Chaos, molto velocemente, delle prime realità confermate. Quindi abbiamo le Bromancer Geek Boy, che... Secret, che dovrebbe essere... sì, nuova carta, era stata già annunciata precedentemente. Abbiamo il Magic Uribo, che sarà raro. Quindi, ok. Magic Uribo. Vi ricordo che sono tutte le carte che avevamo già visto, ma tipo mesi fa, quindi siamo stati molto... molto... e rapidi a vedere. Allora, T-Maius, ultra raro. Ci sta. Il Jet Dragon sarà Secret. Doctor D Super, Dictator of D Super, carta veramente molto interessante, è un bel boost per il Drago Bianco, secondo me. Poi, Dinorfia Terizza sarà Secret, l'andremo a vedere dopo perché non c'è l'immagine. Poi, Illusion of Chaos, Secret, Master of Chaos, Ultra. Dinorfia, Kent Regina sarà ultra raro, anche questo andremo a vedere. La Guardian Chimera, carta fortissima sarà Secret. Scusate, adesso andiamo a vedere le artwork delle carte. Illusion of Chaos, quindi Secret. Master of Chaos, Ultra. Guardian Chimera, Secret. Carta fusione, veramente molto interessante. Poi, Kent Regina, l'andremo a vedere dopo, più avanti, che è ultra raro. Zombie Vampire, Secret. Ultimate Fusion, Super. e andiamo a vedere appunto, Zombie Vampire. Poi ovviamente, quando uscirà tutto il set, andremo a fare un'analisi più approfondita, eh ragazzi. Perché oggi deve uscire anche un altro video, ricordante, diciamo ricordante la botta, ma non è assolutamente una lamentela, quelle ce ne sono state ieri, basta. e andremo comunque a vedere. Poi, Silence Ban, Secret, quindi, è un po' tipo, proibizione, però, non lo so. Perché, dichiariamo il nome di una carta, per il resto del turno, l'avversario non l'attiva, lo stesso effetto, però, si ripercuote su di noi, ma per il resto del duello, quindi, non lo so, se fosse stata rapida, forse sarebbe stata ancora più forte, non so come, eh, potrebbe evolversi. Dinomorfia Domain, Secret, Libromancer First Appearance, mamma mia ragazzi, Ultra, quando questa carta viene attivata, possiamo aggiungere Libromancer dal deck alla mano, con un differente nome delle carte che controlliamo. Durante la line phase, possiamo giocare tramite il rituale, un mostro Libromancer dalla mano, tributando dalla mano, oppure terreno, mostri cui il livello sia totale, uguale, o superiore, quindi, ok, figa, carta terreno, ottima, e queste si concludono, quelle confermate, le realtà confermate, che poi, ovviamente, andremo a vedere. Andiamo, rapidamente, a rivedere un attimo le carte, quindi, Magico Rebo, Dimension Conjure, Dimaius, Blue Ice Jet, Tirant of D, Cosmo Croak, the Ice Jade, va bene, supporti di Ice Jade, di Northia Terrizia, questa è Secret, ci sono anche supporti Nordic, come vediamo, Grifone, supporti Vampiro, S-Force, Mutant, Agent, Simorg, Deptives of Chaos, quindi, veramente, Mal, Alice, per il, Lair, sono veramente contento, di questo, di questa, nuova, lui è Ultra, non l'ho visto, anche lui dovrebbe essere Ultra, si, Cantaregine, ok, l'abbiamo visto, Guardian, Chimera, supporti, Swords, comunque, le carte sono, vado veloce, chiedo scusa, ma così almeno, facciamo un recapino, veloce, Dark, il Charmer, Oscurità, Ultimate Fusion, e qui tutto il resto, sono un po' scarico, perché stamattina, molto freneticamente, ho fatto il vaccino, quindi, ecco, Domain, che sarà Secret, tutti i supporti, Dinomorfia, comunque, carte che abbiamo imparato a conoscere, detto questo, allora, fatemi sapere voi cosa ne pensate, le larita, comunque, erano abbastanza, intuibili, noi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video, probabilmente sarà oggi pomeriggio, per fare una bella chiacchierata, e niente ragazzi, un saluto a tutti quanti, e a oggi pomeriggio, e fino a tutti i giorni, abbiamo품ito intu Spiritual, e quindi, Grazie.